La campagna che sogniamo è stato il tema dell'incontro svoltosi al polo nautico di Salerno con i referenti nazionali della Lega. L'onorevole Luca Toccalini, segretario federale Lega Giovani, l'onorevole Nicola Molteni, già sottosegretario al Ministero dell'Interno ed oggi coordinatore regionale Lega Campania e l'onorevole Andrea Crippa, vice segretario federale della Lega, a cui sono state affidate le conclusioni accolti da Nicola Sesposito, coordinatore provinciale di Lega Salerno, hanno esposto alla sala gremita le loro idee per la campagna del futuro. Diversi punti toccati, tra cui il riconoscimento delle risorse e delle eccellenze umane campane che migrano al nord e all'estero e che, secondo l'onorevole Crippa, devono avere invece la possibilità di mettere le professionalità al servizio della loro terra. Il problema numero uno della campagna è che ogni volta che scappa un giovane da questa terra è una sconfitta per i campani e per la politica. Quindi l'obiettivo è quello di riportare questi ragazzi e queste ragazze a poter mettere a disposizione le proprie capacità, il proprio talento, la propria professionalità in campagna. Perché, l'ho detto prima, io quando incontro i migliori medici, i migliori professionisti al nord, spesso non vengono da qui. E quando gli chiedo, ma perché non torni in campagna a lavorare, mi dicono, ma cosa ci torna a fare? Tanto lì non c'è più niente. Quindi se vogliamo ripopolare questa terra di giovani, di eccellenze, di capacità e non farla diventare una terra spopolata o di anziani, dobbiamo cercare di mettere al primo posto dell'agenda politica, sia regionale che nazionale, la competenza, la capacità e gli investimenti. Nelle infrastrutture, sul territorio, per la tutela delle coste, per la tutela del patrimonio culturale e culinario di questa terra. E quindi da oggi inizia un progetto che non è teso soltanto a vincere le elezioni regionali, che sicuramente sarà un passaggio fondamentale, ma quello di costruire una classe dirigente di uomini e di donne che mettano al primo posto i campani e la campagna, perché in questa regione, e mi dispiace dirlo da politico di 33 anni, hanno fallito tutti. Non ha fallito soltanto una certa parte politica. Noi non ci abbiamo mai provato e quindi se i cittadini ci daranno fiducia, noi promettiamo e prometteremo di costruire una classe dirigente fatta di persone che mettono al primo posto gli interessi della gente. Non sono qui a chiedere il voto, sono qui a cercare di convincere le teste e i cuori dei campani che è possibile fare politica in un altro modo, perché se poi la gente per bene non fa politica, diamo la politica in mano a gente che non ha fatto l'interesse della campagna. La gente ha bisogno di cambiamento. In campagna la gente ha voglia di vedere facce nuove, persone competenti e responsabili che hanno voglia di mettere a disposizione le proprie capacità per un progetto nuovo. Apriremo il tavolo con le altre forze del centro-destra per scegliere i candidati in base anche al curriculum e alle competenze. Caldoro è un nome, ce ne sono tanti altri. Stessa idea di campagna, capace di tornare ad essere padrona delle proprie ricchezze e delle proprie eccellenze, l'onorevole Nicola Molteni, che ha parlato di un programma e di un progetto a lungo periodo che a breve la Lega inizierà a stilare per una nuova idea di campagna. La campagna è una grandissima terra, i campagni sono un popolo meraviglioso e straordinario che devono tornare ad essere padroni delle proprie ricchezze e delle proprie risorse. Non siamo qua per insegnare, siamo qua per imparare, per mettere a disposizione non tanto un modello ma dei metodi di buona amministrazione perché dove la Lega amministra e governa, il governo amministra bene. E quindi io credo che il rilancio di una meravigliosa terra come quella a Campana partirà non solo dalle elezioni regionali ma da un progetto condiviso strategico a lungo periodo che Matteo Salvini in un progetto nazionale sta preparando anche per il territorio campano. Settimana prossima ci troveremo con un centinaio di persone, con una settantina tra professionisti, imprenditori, partite IVA, avvocati, commercialisti, professori di diritto per scrivere quello che è la campagna del futuro. Il programma elettorale per le prossime regionali è quindi il punto focale dell'incontro di ieri. Nessun nome invece per la candidatura alla presidenza della regione con l'onorevole Crippa che ha annunciato nuovi tavoli per individuare il nome migliore, per guidare la coalizione di centrodestra e portare avanti il programma elettorale che sarà stilato.